La perizia balistica confermerebbe l'ipotesi di legittima difesa. Freddi Pacini, il gommista di Monte San Savino, che lo scorso 28 novembre aveva sparato contro il ladro che si era introdotto nel suo capannone e lo aveva ucciso, potrebbe andare così verso il proscioglimento. Fondamentali per confermare queste ipotesi sono stati gli elementi emersi dalla consulenza balistica eseguita da Paride Minervini, l'esperto incaricato dal PM Andrà Claudiani e che adesso è stata depositata. La perizia svolta all'interno dell'officina confermerebbe che la traiettoria del corpo mortale, quello che ha dissanguato il giovane moldavo Mirza Vitali, è dal basso verso l'alto, questo perché il 29enne era stato colpito dal titolare nel momento in cui aveva le gambe in aria, perché era scivolato nell'entrare rompendo un vetro. Pacini è indagato dalla procura di Arezzo per eccesso colposo di legittima difesa, ma adesso si potrebbe andare verso l'archiviazione, sia in base alla nuova legge a maglie ben più larghe, ma anche in relazione alla vecchia normativa. L'ultima parola comunque spetta al PM Andrà Claudiani, titolare dell'inchiesta. Fredi Pacini adesso, come più volte ha ribadito in questi mesi, potrebbe comunque rinunciare alla facoltà di non rispondere e farsi interrogare.